Canale YouTube di Luigi Gaglio Geografia dell'Italia Prima appunto di parlare della geografia del nostro paese dobbiamo però fare un passaggio dalla storia alla geografia infatti noi studiamo geografia insieme con la storia dobbiamo dire che insomma l'abbiamo visto perché l'abbiamo studiato appunto in questi primi mesi dell'anno che l'Italia era davvero un ponte naturale fra l'Oriente e l'Occidente era un luogo di passaggio era un crocevia di genti e quindi sono passate dall'Italia sin dai da millenni e millenni insomma erano passate popolazioni che l'avevano occupata oppure l'avevano colonizzata quindi alle popolazioni autotone che noi sappiamo occupavano questa regione popolazione autotone di origini mediterranee che occupavano questa regione da millenni e millenni si sono poi aggiunte altre popolazioni nel corso di una serie di occupazioni di invasioni e di colonizzazioni ad esempio i Fenici sono giunti partendo da Cartagine hanno fondato delle città importanti ad esempio in Sicilia oppure nella Sicilia occidentale oppure in Sardegna per non parlare dei greci l'abbiamo studiato l'anno scorso che hanno fondato tantissime colonie nella Italia meridionale e nella Sicilia orientale centro orientale poi ancora gli Etruschi che sono un popolo abbiamo detto di origine incerta i Celti che sono popolazioni europee e galli gli Italici e i Latini che sono altre popolazioni indoeuropee e qui arriviamo ai Romani che noi stiamo studiando la rete delle strade addirittura anche delle strade che noi oggi attraversiamo strade statali ad esempio mostra la derivazione dell'organizzazione dell'età romana lo sviluppo della viabilità è maggiore al centro nord così come la presenza di autostrade che al nord presentano una maglia molto fitta di connessioni mentre a sud ci sono meno autostrade anche se recentemente è stato completato un tratto della famigerata Salerno-Reggio Calabria famigerata perché appunto era il tratto di strada che bisognava percorrere che si percorreva con maggiore difficoltà per coloro che si volevano spostare dal nord Italia verso la Sicilia le città molte sono di epoca romana portano il segno di questa storia noi stiamo facendo storia antica ma poi è chiaro che si sono succedute nel corso dei secoli tantissime altre popolazioni che hanno occupato l'Italia quindi ad esempio i barbari i longobardi e poi se pensate solamente alla Sicilia la Sicilia è proprio emblematica di questo succedersi di popolazioni dagli arabi i normanni i svevi gli angioini gli aragonesi i borboni tantissime sono state le popolazioni e anche diciamo gli occupanti i governanti insomma di questa di quest'isola l'Italia è punteggiata da moltissimi centri minori di età medievale o rinascimentale che si inseriscono in paesaggi storici di grande suggestione quindi abbiamo iniziato a parlare delle grandi città romane e che conservano magari ancora oggi la pianta romana oppure testimonianze di questo passato romano poi ci sono le città medievali i borghi che hanno delle caratteristiche completamente diverse non sono squadrati i borghi medievali anzi le case sono l'una vicina all'altra sia per motivazioni diciamo così di di difesa di protezione sia nei confronti di possibili invasori sia delle intemperie e poi ci sono le città rinascimentali che invece recuperano almeno in parte i canoni della classicità all'interno delle città si riconosce la forte presenza di segni della tradizione religiosa in primo luogo cristiana ma anche ebraica e musulmana ecco qui per esempio abbiamo proprio una foto che ci mostra il palazzo dei normanni costruito dagli arabi su resti romani poi rielaborato appunto dai normanni che erano una popolazione tra virgolette barbarica comunque proveniente dal nord come dice lo stesso nome ma che poi diciamo si sono convertiti e sono diventati difensori della cristianità quindi anche contro contro gli stessi arabi musulmani però questa costruzione è proprio la testimonianza di una mescolanza di stili e di una ricchezza che viene anche dalla varietà delle popolazioni che hanno occupato ad esempio la Sicilia così come abbiamo detto anche il resto d'Italia questo portato a una cultura multiforme è complessa frutto della sintesi di vari elementi senz'altro diciamo così la la civiltà cristiana la religione cristiana poi ha segnato fortemente comunque se pensiamo anche alle città d'arte piuttosto che agli stessi borghi medievali di cui stavamo parlando prima è chiaro che le città erano spesso come dire progettate in modo da avere al centro un luogo di culto religioso la chiesa o tante chiese come avviene in tante città e in tanti borghi poi a partire dal comune anche diciamo si inseriscono nuovi elementi architettonici importanti come il palazzo della ragione il palazzo della giustizia quindi quello che noi chiameremo il tribunale oppure il palazzo del comune e via discorrendo ecco molto importanti anche diciamo i porti nel nostro paesaggio nella nostra nella nostra storia se pensate ad esempio a come erano importanti nel medioevo le repubbliche marinare da cui partivano i mercanti per i loro traffici e per arricchirsi dal punto di vista fisico come vedete abbiamo fatto un piccolo giochino abbiamo messo a fianco della cartina fisica del nostro paese uno stivale ecco perché viene chiamato lo stivale la nostra penisola assomiglia ad uno stivale leggermente inclinato di quella parte della penisola poi ci sono le isole che sono la Sicilia e la Sardegna dalla metà del Settecento la Corsica non è più italiana fa parte della Francia come potete vedere da punto di vista fisico l'Italia è caratterizzata da due grandi catene montuose la catena delle Alpi a nord che la separa dai quattro stati con i quali confina l'Italia da un punto di vista via terra che sono la Francia la Svizzera l'Austria e la Slovenia e da un'altra catena montuosa gli appennini detta anche dorsale appenninica che rappresenta davvero un po' come potremmo definire la la colonna vertebrale insomma del nostro paese e che si trova un po' a metà fra il mare Adriatico e il mare Tirreno infatti dalla catena appenninica partono cioè trovano origine hanno la sorgente dei fiumi alcuni di essi sfociano nell'Adriatico e altri sfociano nel Tirreno il fiume maggiore però dell'Italia per lunghezza e estensione è il fiume Po che ha origine invece dalle Alpi molti sono infatti anche i fiumi che partendo dalle Alpi o si mettono nel Po quindi sono emissari del Po oppure sfociano direttamente nel Golfo di Venezia quindi nel mare Adriatico da un punto di vista fisico possiamo notare ancora altre cose importanti ad esempio il sistema collinare che è molto sviluppato in Italia le pianure che al contrario sono piuttosto limitate la più grande pianura è la pianura padana cioè la pianura del fiume Po ma potete vedere in Puglia il tavoliere delle Puglie per il resto diciamo che le parti di pianura sono piuttosto limitate l'agropontino nel Lazio del sud ma ripeto il nostro paesaggio è caratterizzato soprattutto da montagne e da colline ancora di più delle montagne ecco questi dicevamo sono i quattro paesi confinanti con l'Italia a partire da Ovest la Francia la Svizzera l'Austria e la Slovenia ad est i cinque mari che la bagnano sono in generale il mare Mediterraneo il mare Tirreno a Ovest il mare Ionio e Adriatico a Est e il mare Ligure il mare Ligure appunto ovviamente sempre a Ovest quindi a nord del Tirreno appunto che bagna la Liguria come dice lo stesso nome le due isole maggiori del nostro paese sono la Sardegna e la Sicilia se riuscite a intravedere delle piccole isole colore viola sopra la Sicilia o meglio a nord-est della Sicilia sono le isole eolie o Lipari queste sono le due catene montagne catene montuose scusate di cui già vi avevo parlato le Alpi e gli Appennini che potete vedere segnati in arancione nella nostra cartina e qui abbiamo delle foto appunto delle Alpi qui abbiamo invece i tre grandi laghi i tre grandi laghi alpini sono di origine glaciale cioè intendo dire c'erano dei ghiacciai che si estendevano molto più a sud rispetto a quanto avviene attualmente che poi si sono ritirati ritirandosi questi ghiacciai hanno generato delle valli pensate appunto a Valcamonica Valtellina eccetera ma anche hanno generato dei laghi che sono appunto di origine glaciale il lago di Como il lago maggiore e il lago di Garda che sono di estensione in ordine di estensione crescente per cui il lago di Garda è quello più esteso come vedremo adesso in una delle prossime slide qui vediamo una foto del lago di Garda e due foto del lago di Como che è sicuramente quello che è meta maggiormente meta di turisti stranieri soprattutto e non solo come già anticipato il lago più grande d'Italia è quello di Garda che si trova fra la Lombardia e il Veneto il Trentino anche il Trasimeno invece è un lago di origine vulcanica il Trasimeno si trova in Umbria è di scarsa profondità rispetto a quelli alpini ecco quelli alpini come ho detto di origine glaciale sono il frutto dello scavo di questi ghiacciai che hanno scavato profondamente il terreno hanno creato degli avvellamenti chiamiamoli così appunto in cui comunque è rimasta l'acqua in questi laghi ma che hanno notevoli profondità invece questi laghi di origine vulcanica sono detti laminari pertanto sono di profondità scarsa perché sono dovuti a fenomeni sismici vulcanici ecco insomma movimenti tettonici diciamo che si sono generati nel corso dei millenni e quindi è come se fossero tra virgolette come dei crateri chiamiamoli così no crateri spenti e quindi sono dicevamo di profondità minore ecco qui lo vedete il lago trasimeno nella zona a nord ovest dell'Umbria è anche il maggior lago dell'Italia centrale è di poco meno esteso del lago di Como e ci sono anche ancora altri laghi di origine vulcanica nell'Italia centrale come il lago di Bracciano nel Lazio i tre vulcani nel nostro territorio sono l'Etna il Vesuvio e lo Stromboli l'Etna e lo Stromboli sono in perpetua attività il Vesuvio è dormiente qui li potete trovare in questa cartina qui vedete per esempio a nord del Vesuvio ci sono i campi Flegrei cioè un'altra zona di bradisismo e di altri fenomeni di vulcanismo secondario oltre effettivamente a Stromboli che è un'isola anche praticamente delle Lipari ci sono anche altre isole sempre di questo arcipelago Panarea e Vulcano già il nome stesso vi fa capire che è l'origine insomma di queste di queste isole diciamo anche dei campi flegrei del mar di Sicilia però ecco evidentemente i tre vulcani principali del nostro paese sono il Vesuvio ecco qua vedete il cratere del Vesuvio che abbiamo detto che è dormiente l'Etna che invece è soggetto spesso a delle attività eruttive piuttosto appariscenti con la pilli lava eccetera e stromboli dal pennacchio di questo vulcano appunto sono eruttati si eruttano sbagliati materiali soprattutto fuoriescono delle nuvole di gas mentre l'attività dell'Etna è un po' più varia diciamo così è anche preoccupante certe volte lo sanno molto bene gli abitanti di quelle zone o della città di Catania la città di Catania è stata ad esempio invasa qualche secolo fa da una di queste eruzioni vulcaniche che ha lasciato segni evidenti e tracce che si possono ancora oggi vedere nella città l'Etna si trova in Sicilia come tutti sappiamo e qui vedete il riquadro che vi fa capire quale zona della Sicilia in modo particolare le regioni dell'Italia ecco l'Italia suddivisa in 20 regioni qui potete vedere la cartina di queste 20 regioni differiscono queste regioni notevolmente per estensione e popolazione le più estese sono la Sicilia e il Piemonte le più popolose sono la Lombardia la Campania e il Lazio in queste ultime vive circa un terzo della popolazione italiana quanto all'età media in generale le regioni del sud sono più giovani mentre quelle con maggior tasso di fecondità sono regioni ad alto reddito con buone prestazioni di welfare come Valdaosta qui manca un apostrofo Lombardia e Trentino Alto Addice la popolazione totale dell'Italia supera di poco i 60 milioni su una superficie di circa 300.000 chilometri quadrati ecco questa dicevamo è l'Italia politica cioè con la suddivisione delle 20 regioni come abbiamo detto alcune come la Sicilia e il Piemonte molto vaste altre quasi vaste quanto la Sicilia e il Piemonte ma più popolose come Lombardia Lazio Campania anche Emilia Romagna per carità poi via via tutte le altre la Toscana eccetera fino ad arrivare alle regioni più piccole che sono la Valle d'Aosta che è anche una regione autonoma il Trentino Alto Adige è un'altra regione autonoma il Molise la Basilicata che sono piuttosto piccole come potete vedere ci sono le due enclave della città del Vaticano e di San Marino due stati indipendenti ma ad essi dedicheremo una una slide ecco come vedete la Croazia non confina con l'Italia ma confina con la Slovenia la Slovenia si invece confina con il Friuli Venezia Giulia anche se nella Croazia ci sono delle città come Pila Fiume che sono state per un certo periodo di tempo città italiane ecco sottolineiamo anche il fatto che Malta è un'isola indipendente e quindi che non fa parte del nostro territorio invece Pantelleria e Lampedusa fanno parte del territorio dell'Italia Lampedusa come vedete è molto vicina alle coste della Libia e quindi come ben sappiamo soggetta a sbarchi di migranti questi sono i due stati indipendenti dentro l'Italia il Vaticano o città del Vaticano vedete questa bandiera gialla metà bianca e San Marino che invece si trova praticamente in Emilia Romagna e in questo caso vedete che invece la bandiera per metà bianca per metà azzurra con vari stemmi il territorio italiano come stavamo dicendo già in precedenza la parte pianeggiante del nostro territorio è una parte inferiore insomma di dimensioni inferiori rispetto a quella montagnosa e collinare come vedete le pianure in Italia occupano il 23% del territorio le montagne il 35% del territorio e le colline il 41% addirittura del nostro territorio vuol dire quindi che la maggior parte del nostro territorio è collinare il paesaggio del nostro paese è antropizzato cioè non è un paesaggio incontaminato è un paesaggio in cui la presenza dell'uomo è molto evidente la pianura padana ecco qui vedete ad esempio una fotografia della pianura padana nel suo aspetto attuale è il risultato di un secolare processo di modificazione dell'ambiente attraverso operi idrauliche disboscamenti e il miglioramento dei campi attraverso metodi di coltivazione avanzati cioè la meccanizzazione dell'agricoltura è giunta prima nella pianura padana e poi in altre zone dell'Italia pensate ai trattori ad esempio qui già a partire della prima età moderna si è sviluppata un'agricoltura rivolta al mercato non un'agricoltura di sussistenza generalmente ad esempio nelle zone montane scusate l'agricoltura e l'allevamento sono erano di sussistenza e quindi poco rivolte al mercato invece l'agricoltura in pianura è sempre stata comunque da molti secoli rivolta al mercato condotta in ampi e razionali appezzamenti con il ricorso alle tecniche più avanzate i climi dell'Italia ecco qui potete vedere i vari climi che caratterizzano il nostro paese a partire dal nord abbiamo il clima alpino il clima della regione alpina è un clima sicuramente molto freddo caratterizzato infatti da inverni lunghi e rigidi e da estati fresche e piovose forti escursioni termiche annue e notevole durata del manto nevoso il limite delle nevi perenni è a circa 3000 metri abbiamo detto che nel corso della storia ci sono stati periodi in cui le nevi perenni ghiacciai erano ad altitudini decisamente inferiori la vegetazione tipica di questo clima alpino di questo paesaggio alpino è quello dei grandi boschi di conifere poi abbiamo la regione padana la regione padana ha un clima di tipo semicontinentale con forti escursioni termiche annue prosegue fino all'adriatico settentrionale dove l'effetto mitigatore del mare è contrastato dai venti freddi provenienti da nord-est più miti sono le condizioni attorno ai laghi prealpini quindi i laghi permettono un clima più mite rispetto ad altri territori infestati tra virgolette o comunque colpiti da venti provenienti da nord il bioma originario della pianura padana fatto di paludi e di foreste ora è praticamente scomparso infatti come abbiamo visto nell'immagine precedente tutte le generazioni di agricoltori che si sono succedute nella pianura padana hanno iniziato a canalizzare le acque hanno bonificato le paludi per esempio hanno disboscato le foreste per cui questo territorio si presenta a noi in modo ben diverso rispetto a quanto accadeva originariamente e quindi è quasi tutto come potete vedere occupato da campi coltivati poi abbiamo la regione appenninica con le zone montuose interne delle grandi isole con carattere tendenzialmente continentale anche se non abbiamo qui nelle zone interne montuose delle grandi isole il colore verde dobbiamo immaginarcelo che almeno laddove ci sono le catene montuose principali della Sardegna e della Sicilia ci sia un clima che possiamo dire così definirlo continentale dominano qui foreste di latifoglie e quindi il clima è continentale scusate nella regione appenninica continuiamo ad osservare altre regioni importanti come quella adriatica ad esempio oppure la regione ligure tirrenica con precipitazioni abbondanti e più ridotte in estate e inverni freschi la regione mediterranea infine lungo le fasce costiere del tirreno abbiamo una regione mediterranea ma qui come potete vedere soprattutto però della Calabria dell'Oionio e dell'Adriatico meridionale con precipitazioni invernali temperature da miti a molto calde e ridotte escursioni termiche annue in questo paesaggio mediterraneo prevale la macchia mediterranea e gli alberi tipici dei climi caldi come il pino marittimo e la palma ecco quindi il tirreno è diverso dall'Adriatico e questo diciamo che condiziona anche il clima e il paesaggio il tirreno infatti è più esteso e profondo e quindi è in grado di immagazzinare nella stagione estiva una maggior quantità di calore esercita sul clima quindi un'azione mitigatrice più forte dell'Adriatico che troppo basso più piccolo di scarsa profondità aperto alle masse d'aria fredda dicevamo provenienti dal nord nord-est e quindi i venti di cui abbiamo già parlato tipo Bora e Tramontana quindi a parità di latitudine le temperature delle coste occidentali quindi di quelle tirreniche sono più elevate di quelle delle coste orientali e quindi adriatiche la popolazione italiana come si può vedere dalla tabella la percentuale della popolazione italiana di origine straniera si attesta attualmente attenzione però nel 2011 intorno al 7,5% ovviamente adesso è aumentata questa percentuale e quindi tende al 9% la distribuzione di questa parte di popolazione in paesi di origine è molto varia non si assiste alla spiccata prevalenza di nuovi cittadini provenienti da una particolare regione del mondo come avviene ad esempio in paesi che hanno colonizzato determinati territori e quindi si vedono provenire insomma immigrati soprattutto da quei territori là invece noi abbiamo una certa distribuzione ecco in questa cartina abbiamo la distribuzione delle lingue e delle religioni in Italia per quanto riguarda le lingue noi sappiamo bene che nel nostro paese la lingua nazionale è l'italiano tuttavia dobbiamo e qui in questa cartina è evidenziato in maniera abbastanza chiara dobbiamo ricordare che ci sono delle varietà linguistiche regionali sono i cosiddetti dialetti queste varietà decisamente più spiccate fino a qualche alcune decine di anni fa mano mano si sono un po' stemperate nel corso appunto dei decenni tuttavia mantengono una loro peculiarità i dialetti ad esempio i dialetti settentrionali chiamiamoli così oppure quelli veneti toscani oppure diciamo quelli dell'Italia centrale quindi romanesco piuttosto che l'umbro e marchigiano i dialetti meridionali qui vedete tutto questo insieme di dialetti meridionali che si distinguono l'uno dall'altro l'abruzzese il molisano il campano il pugliese il lucano i meridionali estremi come il salentino il calabrese e il siciliano un discorso a parte va fatto per il sardo che è da considerare una vera e propria lingua così come il friulano o il ladino che sono da considerare assolutamente delle vere e proprie lingue lo sloveno che è anche lingua della Slovenia ma che è parlato anche in territori di confine e quindi anche in alcune zone della Venezia Giulia diciamo del friuli Venezia Giulia poi abbiamo delle enclave chiamiamole così cioè dei territori o delle città in cui sono presenti delle comunità che magari si sono spostate dai paesi di origine ma hanno mantenuto una loro identità anche linguistica quindi potete vedere che ci sono delle comunità di albanesi che parlano ancora oggi l'albanese nell'Italia meridionale oppure il greco o il catalano in una piccola enclave in una zona della Sardegna nord-occidentale quindi l'italiano è una lingua ufficiale ma ci sono molti dialetti e regioni in cui oltre all'italiano si parla un'altra lingua ad esempio in Valle d'Aosta si parla anche francese o franco-provenzale in Alto Adige si parla il tedesco sono regioni autonome come queste e quindi in queste regioni anche diciamo così non so come dire anche l'amministrazione piuttosto che i nomi delle città eccetera sono in queste lingue e non solamente nell'italiano in Alto Adige si parla tedesco abbiamo detto anche che c'è una zona in cui si parla il ladino nella Venezia Giulia si parla lo sloveno in Sardegna si parla il catalano parliamo adesso delle religioni sappiamo che tradizionalmente anche per la presenza del Papa la religione nazionale del nostro paese è sempre stata la religione cattolica tuttavia nel corso dei secoli anzitutto per via di migrazioni pensate ad esempio alle migrazioni degli ebrei sefarditi che si sono stanziati ad esempio a Livorno cacciati dalla Spagna oppure i valdesi che si sono tra virgolette ricoverati o nascosti in valli dove hanno coltivato le loro usanze e anche la loro religione che era una religione diversa da quella cattolica e che poi sono confluiti all'interno dell'alvio della riforma protestante oppure di altri protestanti che sono giunti in Italia i buddisti c'è stata una certa diffusione di questa religione buddista ad esempio negli ultimi decenni a partire dagli anni 60 la religione musulmana per via delle molte migrazioni di questi ultimi decenni di popoli provenienti ad esempio dall'Egitto ma non solo anche da altre regioni dell'Asia oppure dell'Africa del Nord la religione ortodossa anche qui nel caso di migranti provenienti dalla Romania dalla Bulgaria oppure da alcune regioni dell'ex Unione Sovietica c'è stato un aumento della diffusione di questa religione la religione cristiana ortodossa prima di terminare questa lezione vorrei dire qualcosa riguardo allo stato italiano nel senso ritorniamo anche alla fine a parlare un po' di storia così come abbiamo fatto all'inizio nel senso che la storia del nostro paese è sempre stata caratterizzata da una certa divisione queste 20 regioni insomma questo mosaico regionale di cui abbiamo parlato prima risentono anche di una storia politica del nostro paese che dopo la caduta dell'impero romano e soprattutto dopo l'invasione dei Longobardi i quali non hanno mantenuto l'unità del territorio italiano ma hanno occupato solo una parte di esso si è venuta a creare una condizione politica di frammentazione che si è perpetuata per un millennio circa fino all'unificazione italiana avvenuta nel 1861 una unificazione che non ha potuto però cancellare del tutto queste differenze regionali questa distinzione in stati regionali che c'era stata per tutto il periodo precedente abbiamo detto sin dalla guerra greco-gotica parliamo quindi del 600 dopo cristo fino al 1861 dopo cristo quindi appunto dicevamo anche più di mili anni 1200 anni circa dovremmo anche parlare un pochettino della colonizzazione l'italia ha cercato di colonizzare dei territori dopo aver cercato inutilmente di colonizzare l'etiopia di essere stata sconfitta dagli etiopici ha occupato la Libia e poi l'Abissinia e dall'Abissinia nuovamente ha cercato lo sforzo coloniale dell'italia fu enfatizzato durante il periodo del regime fascista del ventennio del regime fascista e infatti è proprio in quel periodo che ci fu una guerra dicevamo contro l'etiopia per tra virgolette vendicare il torto della battaglia di Adua e quindi l'etiopia divenne italiana con la conseguenza che la società delle nazioni fece delle sanzioni contro l'italia per via di un progetto che tendeva a rinverdire insomma il ruolo egemone dell'italia nel mediterraneo con molta enfasi retorica poi però ci fu la sconfitta della seconda guerra mondiale l'italia perse subito tutto il suo impero coloniale poi però come abbiamo visto nella lezione invece sull'economia ha riacquistato un ruolo importante sia perché è stato uno dei paesi fondatori della comunità economica europea e quindi poi dell'unione europea sia per il boom economico quindi il miracolo economico per cui come abbiamo visto appunto nelle due lezioni sull'economia e sulle emigrazioni da paese di emigrati cioè a forte emigrazione quindi spostamento di masse da regioni diciamo anche sottosviluppate o comunque in difficoltà del nostro paese partivano masse di emigrati che andavano appunto a trovare lavoro e a trovare anche la casa nell'America del nord e del sud nell'Australia dal 1975 la tendenza si è un po' invertita e noi siamo diventati un paese oggetto di emigrazioni quindi con flussi migratori provenienti dall'Africa e dall'Europa e quindi la penisola italiana si trova a ricoprire ancora oggi come alle origini abbiamo visto all'inizio della sua storia quel ruolo di ponte naturale che l'aveva caratterizzata sin dalle epoche lontane una situazione non priva di problemi ma certamente in linea con il ruolo di crocevia di popoli mosaico di popoli che la geografia e la storia le hanno da sempre assegnato altri video didattici su atuttascuola.it a Grazie a tutti.